Sindaco, buongiorno. Stamattina sono partite le inoculazioni di vaccino per il Rioverro 80 del Vallo di Lauro. Un traguardo a cui si giunge non facilmente. Che sensazione ha? La sensazione è positiva, c'è gioia anche perché si vede la tranquillità di queste persone anziane che lo stanno effettuando. Siamo contenti perché al di là di ogni aspettativa è andato tutto a buon fine, tutto benissimo per adesso. Speriamo di continuare così. Va bene.